Mi serve naturalmente un po' di tempo per riprendere il controllo della situazione, capito? Non molto bene. Allora l'ho invitata al party a casa mia durante il weekend, così avremo occasione di stare un po' insieme. Perciò ho bisogno che tu tenga compagnia alla zia Vera per il maggior tempo possibile. È chiaro il quadro? Se è per questo anche la cornice, ma ho dei programmi per il weekend. Grazie, non dimenticherò il favore, credimi. Non ha capito bene, signore, io non posso... Magnifico, siamo intesi. Troverò il modo di farti fare una rapida carriera, Brent. Mi sembri un giovanotto molto sveglio e perspicace, e continua così. Che stronzo. Carina però.